Forze fresche in arrivo per la sanità pugliese. Il via libera è scattato ieri nel corso della riunione della giunta regionale che ha approvato il piano di assunzioni per il 2024-2025 per aziende sanitarie locali e ospedali del territorio. Una opportunità offerta, fanno sapere dalla regione, dal sostanziale pareggio di bilancio del 2023. Le principali fonti per il finanziamento dei nuovi assunti sono da una parte le risorse statali aggiuntive per il personale per specifici obiettivi, come da decreto ministeriale del 29 maggio 2022 pari a circa 22 milioni, il tesoretto non utilizzato relativo allo spazio finanziario 2023 circa 20 milioni e i fondi recuperati dai pensionamenti non previsti del personale sanitario nell'anno in corso pari a 28 milioni per un totale di oltre 70 milioni di euro. Questo mix di risorse, attentamente ripartito sulla base delle richieste arrivate da Asla Enti, concorrerà all'apertura degli spazi finanziari per le assunzioni. Le aziende sanitari hanno fatto richiesta di circa 2.300 nuove unità per 127 milioni di euro su base annua. Per la maggior parte si tratta di medici ma ci sono anche infermieri e operatori sociosanitari. Secondo il piano stilato dalla regione si procederà con assunzioni scaglionate. Circa 1.400 unità verranno assunte dal 1 luglio 2024 e altre 950 invece a partire dal 1 gennaio del 2025, così da soddisfare tutte le richieste arrivate dalle aziende sanitarie. Inoltre dal 1 aprile del prossimo anno potranno essere avviate ulteriori assunzioni in sostituzione delle cessazioni del 2025 con una prima stima di circa 1.100 unità, grazie ad un incremento del Fondo Sanitario Nazionale. Tra i provvedimenti adottati dall'Aggiunta regionale in materia di sanità, uno riguarda in modo specifico il fabbisogno di due istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, vale a dire l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e il Debellis di Castellana Grotte. Per le due strutture la regione ha autorizzato circa 100 assunzioni extra che potranno essere effettuate a partire dal 1 luglio 2024 in considerazione della particolare importanza dei servizi erogati ai cittadini e dei risultati conseguiti sul piano gestionale.